Ma perché si comportava in questo modo Newton in realtà? Poi l'abbiamo scoperto perché negli anni 70 un team di scienziati ha tagliato una ciocca di capelli dal cadavere e ci ha fatto dell'analisi. Così si è scoperto che aveva una leggerissima intossicazione da metalli pesanti. Piombo, cadmio, una quantità di mercurio pari a 15 volte la norma. 15 volte la norma di mercurio. Oh, Newton non era uno scienziato, era un termometro. Che era successo? Perché? Allora in pratica durante il periodo in cui era diventato alchimista lui si era procurato questa fornace in cui faceva gli esperimenti a fiamma libera e quindi respirava tutto. Ma non solo, perché la cosa più inquietante è che lui si era fatto mandare un sacco di composti chimici dal mondo che aveva là tipo spezie. Uno c'è il quaderno di laboratorio, no? Quando fa le ricerche in cui scrive tutti gli appunti il suo sembrava quello di cannavacciuolo. Perché a quanto pare lui prendeva la spezia, apriva e segnava il gusto, che poi io voglio sapere cosa sperasse di ottenere. Bello. Quindi se vi foste mai chiesti di cosa sa il mercurio ecco lui l'ha descritto con tre agentivi forte, aspro e disgustoso voi non sapete che cosa non darei io per accedere due secondi a questo quaderno e poterci scrivere sotto una piccolissima postilla grazie al cazzo. E quindi Newton mangiava i metalli pesanti secondo te quanto ha campato Newton? Fino a 84 anni non c'è un cazzo di giustizia al mondo quindi se volete campare bene per favore smettete di farvi le pugnette o mangiate metalli pesanti ognuno fa la sua scelta, io ho fatto la mia. Ad ogni modo non pensate che effettivamente questa cosa sia rara nella scienza ad esempio anche lui ci ha dato dentro Darwin, bravo eh oh, l'ha capito subito l'ha capito subito dai somiglia un po' all'omino del cervello lo ammetto Ad ogni modo Darwin, forse voi non sapete che Darwin durante gli anni dell'università è stato presidente di un'associazione goliardica studentesca il Glatton Club il club del ghiottone e cosa si faceva al club del ghiottone? La missione era mangiare il maggior numero di specie fino a quel momento sconosciute al palato umano vai a vedere che poco poco Darwin è diventato naturalista non per un vero spirito di conoscenza verso la natura ma perché ci aveva fame? Lui dice di aver assaggiato tutte le specie che ha conosciuto e che ha incontrato tutte e quindi oggi sappiamo l'esempio di cosa sa il puma secondo lui sa di vitello di cosa sa l'armadillo secondo lui sa di anatra e comunque ci dà anche il consiglio se dobbiamo cucinarlo dalla parte della corazza perché tiene meglio la cottura ha assaggiato le iguane che a quanto sembra fanno cagare però ha assaggiato anche le tartarughe gigante delle Galapagos di cui ha detto soltanto il petto è decente tutto il resto fa cagare però i presenti riportano anche un'altra cosa cioè che lui ha estratto da questa tartaruga la vescica ancora calda e fumante se l'è spremuta in bocca è uscito questo liquido denso giallognolo che ha descritto come aspro ma tutto sommato piacevole quindi se vi foste mai chiesti ma Darwin ha mai assaggiato il piscio di tartaruga la risposta è sì e gli è piaciuto oh voi potreste stare chiedendovi ma quindi tutti gli scienziati assaggiano il frutto delle proprie ricerche anche qui avrei un'esperienza personale da raccontarvi cioè tempo fa io lavoravo in un laboratorio ad Amsterdam no? facevamo produzione di plastiche da sottoprodotti industriali quindi dopo cinque giorni di lavorazione proprio mi l'ho messo sotto su questo progetto finalmente riesco ad ottenere un materiale che funzionava era un materiale gommoso non era perfetto perdeva ancora un sacco di molecole di furani quindi insomma sostanzialmente era un po' tossico però era figo come materiale era figo quindi lo maneggiavi con i guanti però era figo in quel periodo venne a trovarci per farci visita un professore famosissimo di Amsterdam non ricordo il suo nome suonava più o meno come professor Robocop Van Krausen chiamiamolo il professor Robocop vabbè il professor Robocop viene in laboratorio quindi ovviamente gli devo far vedere cosa sto facendo e gli do la mia pallina in mano gli dicevo i guanti perfetto e gli spiego allora vedi questo andavo sotto la cappa allora questo qua vedi lo strumento abbiamo preso questo abbiamo preso qua mi rigiro tutto quanto mi rigiro la pallina non c'è più non sto scherzando la pallina non c'è più però la sua faccia era questa allora a me non me ne frega un cazzo se muore va bene non mi interessa però ci ho lavorato per cinque giorni c'è ma porca puttana ma pure se fosse ma io vengo a casa tua appena ti volti mi metto il telecomando in bocca chiedi almeno il permesso ma proprio così per scrupolo siamo pur sempre scienziati quindi ho cercato di trarne il massimo beneficio possibile quindi gli ho chiesto vabbè mi dica almeno di cosa sa mi ha detto sa di zucchero rimani qua te ne faccio un'altra mi ha detto che ci sono di qualcosa da che c'è mi ha detto che c'è la cosa è anche che c'è la cosa che c'è la cosa è che c'è